quest'estate ho avuto l'occasione e la fortuna di tradurre questo libro un libro molto bello edito da edicola edizioni di scritto da haime luis oenon ora io vorrei leggervi un paio di poesie tratte da questo libro incontrammo rugana alla porta dell'annoso hotel renascimento accompagnava le coppie molto gentile senza guardarle né un secondo negli occhi compagno gli dicemmo ci sono scuole innalzate dalla patria in tuo nome ci diede un'occhiata in silenzio spense i tre lampioni della soia liberammo vallejo dal carcere lanciando le granate che ci diede il caparbio comandante abimayel caddero le muraglie le torrette l'ufficetto blindato del direttore e il tempietto francescano del fortino il poeta si lamentava da una sedia ricoperto dalla polvere delle bombe contemplandoci perduto e senza parlare esci adesso compagno gli gridavamo trapassando l'apertura della cella e tirandolo con forza sul camion ormai non ci credo in voi ci rispose non siete che una mandria di ruffiani vile risma della banda di guzman guardando gli offendemmo la madre sotto un sole che incrinava la sabbia giusto di fronte al santuario di ciancian